Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video, oggi nuovo video sulla rovina della mia vita, cioè Tentacrol13, H. Maria De Filippi che a quanto ho capito ci sono un sacco di nuove news, ha fatto un po' di cose nuove, ha fatto uscire dei video nuovi e sono pronto a segnalarli così da fargli chiudere l'account, bello carico, andiamo a vedere cosa hanno fatto i miei investigatori privati sono molto curioso di questa cosa ma prima di tutto voglio andare a vedere che cosa è successo effettivamente all'interno di questa schifosa allora iniziamo subito da TikTok e vediamo subito il primo cambiamento allora da quello che ho capito ho fatto pure dei nuovi video che sono questi due immagini se ne andremo a vedere ma ho visto praticamente che ha cambiato immagine di profilo e ha emesso praticamente una scritta che non so cosa voglio dire forse si può tradurre, no però forse se traduco tutta la pagina gli investigatori di Yao sono in pericolo bene quindi è una minaccia praticamente bella e buona quasi quasi alla polizia, no scherzo però immagino che per Yao si intenda Xiao quindi praticamente è una minaccia un po' a tutte quelle persone che stanno investigando appunto su di lei io in questo momento vi dico la verità me ne sta fregando qualcosa assolutamente no perché sotto casa mia c'è una kebaberia incredibile si sta sentendo un odore di pizza allucinante quindi ritenta col di realtà non me ne sbatte assolutamente niente però facciamo il video allora la fotoprofilo ovviamente è collegata a quello che aveva ovviamente la fotoprofilo che aveva praticamente su Roblox però vabbè niente di nuovo ha semplicemente penso ripreso in mano il profilo di TikTok da quello che ho capito comunque ci sono un po' di persone che stanno un po' confabulando stanno un po' come si dice? si stanno un po' parlando del fatto che attenzione potrebbe essere stata hackerata il che si spiegherebbe appunto il fatto che praticamente aveva smesso di fare i video per un bel po' di tempo e soprattutto perché dal video che ho fatto insieme alle mie due super mega incredibili amiche Robby e Jenny lei parlava in un modo molto strano soprattutto perché da quello che si è capito è arrivato un nuovo tizio che tra l'altro ha cambiato pure avatar che si chiama LeaderStorm242 che spoiler ha 104 follower mi verrebbe da dire chissà perché ragazzi ma molto probabilmente qualcuno di voi l'avrà già scoperto anche lui qui c'ha una cosa strana che qua in realtà sembra che c'è scritto Tentacol13 ma se traduciamo c'è scritto Tentacol13 è il mio cosa speriamo il dito nel sedere perché quello vi meritate entrambi questo dizio in realtà penso che oltre ad aver cambiato avatar e Bio non ha fatto assolutamente nulla è rimasto così ho i capelli verdi non ho capito perché sembra un po' Maca il mio migliore amico spero non sia uno scherzo ovviamente non è lui spero andiamo intanto a vedere i due video che ha fatto dopodiché capiamo se effettivamente qualcuno di voi ha scoperto qualcosa andiamo subito a vedere il primo video allora aspetta un attimo aspetta 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 un secondo no no un attimo questa è una cosa grave scusatemi come diavolo è possibile allora io non voglio dire una cavolata ma questo trono è il famoso trono che era nel mondo che le hanno bannato come ha fatto ad entrarci? magari mi sbaglio magari aspetta vediamo vediamo se si vede ok scrive ciao bella sta canzoncina cringe vediamo vi ricordate di me? guarda in realtà ma la gente che nei commenti scrive buongiorno Roby che problemi ha ok beh scordatevi della tizia che conosce cosa? la vera tentacro adesso sono io quindi è una conferma? cioè mi state dicendo che l'ha messo proprio per iscritto? non esiste più la vecchia tentacro? però aspetta 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 un attimo questo potrebbe essere un modo per sviare le nostre idee perché magari dicendo la vecchia tentacro non esiste più è magari un modo per dire che è diventata un'altra persona che è cambiata che è cresciuta quindi non è detto che è stata creata al 100% non è detto attenzione attenzione potrebbe vediamo quello che c'è scritto su questo muro però rimane comunque il mio obiettivo xiao sarà il prossimo ma vieni 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 che ti spacco la faccia vieni cherso non farei mai del male a nessuno tranne se ovviamente qualcuno fa del male a me però ragazzi io me lo ricordo questo è il vecchio mondo di tentacro che le hanno bannato non è possibile come ha fatto ad entrare? è questo qua c'è scritto che non è attivo ora io non so tra l'altro se non sbaglio ha cambiato pure immagine di profilo no come ha fatto raga scusatemi cioè tecnicamente un mondo bannato non puoi più accederci o ne ha fatto un altro oppure magari dall'account in privato ci puoi entrare possibile non ne ho idea io non l'ho mai fatto quindi l'ha bloccato al pubblico quindi dici che è privato e ok però lei aveva fatto un video in cui aveva detto che le avevano bannato il mondo quindi com'è possibile che riuscite ad entrare lo stesso scusami boh vabbè vediamo che cosa dice quindi comunque con me ce l'ha lo stesso vabbè figurati lo so tutti vi stavate facendo questa domanda ah che magari bruci sì speriamo di sì in realtà però no non credo che nessuno si sta facendo questa domanda come fai ad essere dentro quel mondo se te l'hanno bannato esatto esatto effettivamente ci ha azzeccato però è la domanda ok e come ho fatto riceverete le vostre risposte a tempo debito tutto sta ma dov'è qua raga ma ha cambiato mondo qua completamente dov'è ma questa volta sarà davvero grande quello che succederà ed è finito così quindi il video in chat mi stanno dicendo la vecchia tent che ora si è fatta un altro account eh aspetta un attimo vediamo vediamo al contrario ma li sa fare i video questa fa cosa c'è scritto rideranno ma l'ha fatto con capcat boh va bello rideranno su di te penseranno che sei debole ma oddio in realtà ok fagli vedere ma che è sta cringiata dai ah ok ha fatto tipo il flexozzo con il glow up che prima tipo era una sfigata nerd della scuola e adesso è una mega figa con i capelli di rossi boh ok ma la transition un po' bella attenzione cosa oh no e questo è tipo cioè la conferma che è fidanzata col tizio un po' cringe si può dire che è un po' cringe però quindi cosa vuol dire si può entrare nel mondo bannato se può tornare disponibile voglio cercare allora com'è che si chiama tentacrol real ma non esiste tentacrol real chi è questo non lo so ma chi è questa tentacrol 13 primo profilo eh chi è ma chi è andate a vedere il mio nuovo video sul mio profilo ma queste sono le mie foto di instagram cos'è quella cosa che ho molto poco la pazienza sto perdendo la pazienza ok mi raccomando questo è il mio video del 2018 cos'è ma che cos'è andati questo è fake palesemente comunque palese fake di brutto voglio vedere cosa c'hanno da dire i miei investigatori privati comunque vediamo vicky cosa c'ha da dire allora ha fatto tipo 7 video nuovi boh vado quanti ne hai fatti oh vabbè ormai non c'è un giorno di riposo tentacrol mia zia è tornata anche oggi mia zia con un nuovo tiktok e un'altra cosa che poi vi farò vedere il tiktok l'ho già visto ma non l'ho recato perché ero fuori adesso però comunque lo vado a rivedere e ok mi spiego un attimo cosa c'è nel tiktok ok il video in sé è un edit fatto con un template di cap cut ma è un edit dove c'è una specie di transition diciamo da si un po' cringe diciamolo un po' cringe tipo fatta proprio la vecchia tentacrol alla nuova tentacrol bella ma poi che nome è tentacrol raga io ora ci sto pensando ma fa schifo boh dice they're laughing at you they say you e poi c'è la trasformazione diciamo dalla vecchia tentacol con quell'avatar con quei capelli arancioni alla nuova tentacola tentacol con un nuovo avatar carica il telefono però vicky e dai figa come vediamo dalla copertina c'è lei che si bacia con questo ragazzo che è kiron abbiamo scoperto no vabbè bacia si su roblox eh eh diamo un attimino e adesso vi dico anche chi è allora il ragazzo con il quale tentacolo si bacia tra virgolette ok è leader storm mio padre mio padre leader storm che sembra tipo uno di quegli account no che esatto come vedete si è comprato i robux e si è fatto un avatar con i robux bello la cosa diciamo strana è la bio che però è scritta tipo in russo e non riesco a tradurre eh certo perché fai video da telefono vabbè l'ho tradotta io comunque una cringiata come quell'altra perché non riesco a copiarla e non riesco neanche e non c'è neanche la traduzione automatica come su tiktok ok e allora vabbè la prima parola è palese tentacrol palese proprio palese le altre parole però non le so e poi posso dire vicky stai peccando mi aspettavo che parlassi anche cos'è russo ucraino pecca dovresti imparare questa nuova lingua per rinvestigare comunque un po' meglio vai se riesco a tradurlo poi ve lo dirò in questo video ci sta e comunque ho notato che che poi tra l'altro spoiler noi stiamo facendo quale peggio come si chiama le peggio cose le peggio teorie banalmente leaderstorm242 potrebbe essere tipo tentacrol sempre con un altro account è però è tentacrol che leader hanno un profilo seguito prima ne avevano zesso capito ma ho controllato e praticamente si seguono a vicenda ok tra l'altro si è fatto già 48 follower mio padre vai auguriamogli il meglio leaderstorm spero tu diventi famoso dai tentacrol ha raggiunto i 1000 follower e 500 boh ma poi perché la gente la segue su roblo ma perché lo fate cioè perché ma seguite me piuttosto che ne ho pochi su roblox per il momento è tutto quello che abbiamo ovviamente sicuramente tentacrol farà altre cose tipo si ha postato già due tiktok di solito tentacrol tornava postava tre tiktok è vero faceva tre 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 e invece no questa volta due spariva per un tot di tempo mi piacciono i numeri pari magari ha postato questi due tiktok mi aspetto il terzo e invece non l'ho postato dopo non dico che sparirà ma secondo me farà si di nuovo ora non ti sta facendo sentire ora ti paspe l'ultima volta questa che si è collegata no è stato quando una settimana fa ora quello che dico io è questa no in una settimana cosa sta facendo è in vacanza è alle Maldive è morta magari non lo so cosa è successo cioè perché si disconnette io continuo a pensare che c'è un altro account raga e questo a gioco ogni giorno e guarda secondo me in questo momento mi sta guardando pure in live palese 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 schermata nera così comunque dicevo che se tenta col torna sta arruspando la palude com'è che era vabbè mia madre faccio questo video molto velocemente vai non ci sono effettivamente novità ma volevo dirvi due cose innanzitutto augurarvi buona pasqua mia madre e buon pesce d'aprile mo allora ti giuro che se su sto tiktok dici che sei tu tentacrol inizia a chiamare tua madre perché mi devi pagare lo schermo nuovo perché lo spacco con un pugno spero di no eh e poi volevo ringraziare giuli ed emi che mi hanno spiegato come tradurre la bio del ragazzo mi hanno detto usa google lens damn e che ti traduce automaticamente quello che c'è scritto ed effettivamente ho fatto e la bio è tentacrol13 è mia qui c'è scritto è il mio ma ti ha detto male ovviamente ma sarebbe è mia quindi nulla ringrazio le ragazze e noi ci vediamo in un prossimo video con altre novità brava brava che non hai perso il personaggio bravissima dato che mi state commentando in tantissimi dai ma sta tipa dovete segnalarla figa di controllare questo profilo ho deciso di farlo insieme a voi ma è fake dai mi avete scritto in moltissimi sotto i commenti hai visto il nuovo account che poi domanda scusami ma il tipo di lei cioè come che si chiama leader leader le lea der storm 242 se l'è fatto un account su tiktok what the fuck buongiorno allora io giuro su dio che mi sono cagato addosso fammi mettere pausa un attimo il video perché chi è mr andrew 200 oddio mio cos'è mr andrew 203 che fa i video sulla sed e poi arriva su tentacrol allora ragazzi oggi è morto è caduto dall'alba ma chi è è lui mio padre bello cioè lui è il mio investigatore privato vediamo buongiorno a tutti quanti oggi siamo tornati con noi sei più forte la musica ma poi con le lamborghini dei carabinieri dietro boh niente i video non funzionano comunque vabbè che c'è un altro profilo eccetera e il profilo in sostanza è questo tentacrol hanno fatto un gioco su tentacrol trattino da un profilo allora ciao a tutti che uccidi tentacrol deve parecemente essere uno scherzo questa roba ci tengo a precisare che io questo video io ho aperto roblox ho cercato tentacrol 13 per un'altra cosa no violence e questo video lo finiamo così al prossimo proviamo il gioco di tentacrol